Il primo giorno mi trovo un po' di difficoltà, sai, no? Sei ricontato con persone esterne dopo tanti anni. Io l'ho fatto di anni, quindi l'ho fatto un bel po'. Cioè, ci viene un colpo, no? Noi vogliamo coinvolgere la società esterna e fare in modo che la società cominci a conoscere il mondo carcere per essere poi pronta a riaccogliere le persone che escono una volta completata la pena. L'abbiamo visto sul giornale quando avevano fatto l'inaugurazione e mi sembrava giusto appunto partecipare e dare una certa disponibilità alla gente.